Sappiamo bene che il buon Dio ha donato a Padre Pio tantissimi carismi. Uno di questi era il carisma dell'invisibilità. Vediamo di cosa si tratta grazie ad una testimonianza. Questa testimonianza fu di Fra Gerardo. Ecco cosa accadde. Un giorno a San Giovanni Rotondo arriva un gruppo di donne che erano vestite in maniera succinta e facevano parte di una compagnia teatrale. Erano arrivate a San Giovanni Rotondo con la sola e semplice curiosità di conoscere Padre Pio. Lo cercavano nel confessionale e non riuscivano a trovarlo. Quindi si misero a chiesere in giro dove fosse e chiesero l'aiuto di Fra Gerardo, che era il portinaio del convento all'epoca, il quale fece il giro di tutto il convento da cima a fondo, ma non riuscì mai a trovare Padre Pio. Le donne, dunque, erano abbastanza impastidite e scocciate ripartirono se ne andavano via in macchina. In seguito, sulla soglia della chiesa, apparve Padre Pio a Fra Gerardo. E Fra Gerardo gli disse, padre, vi ho cercato dappertutto, ma dove eravate? Guarda, io passavo e ripassavo davanti a te, ma tu non te ne sei accorto. Non ho voluto di proposito farmi vedere, né da te né da altri, in quanto non mi andava ad incontrare quelle donne curiose e vestite in maniera così indecente. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!